Sì, abbiamo giocato molto bene tutta la stagione Questa partita abbiamo fatto un po' di fatica Però devo fare meglio contro Modena Però devo fare un po' di riposo domani Poi vediamo Diamo tempo per preparare la partita contro Modena Ma dobbiamo fare meglio di questo Sì, questa sera c'è un po' di rammarico per quello che è successo Nel primo set avanti addirittura 24-21 Poi perso ai vantaggi Poi comunque il recupero importante nel terzo quarto parziale Che vi ha consentito di conquistare quel punto decisivo per il sesto posto Sì, il primo set abbiamo giocato bene alla fine Facciamo secondo me due o tre ore con la battuta e in difesa Poi il primo set è importante Dopo loro cominciamo a giocare anche meglio e noi un po' meno Abbiamo preso un set di più per recuperare un po' il nostro livello Poi abbiamo giocato meglio con la battuta Abbiamo fatto meno errore Il nostro muro difesa anche ha lavorato molto bene E poi l'ultimo set di nuovo ha fatto fatica con la battuta E con il muro difesa E si vede questo quinto set abbiamo perso Adesso bisogna dimenticare subito questo risultato Perché bisogna entrare in clima playoff Lo dicono tutti è un altro campionato Sono parole scontate Però è vero Ci si può giocare tanto della stagione Sì, 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 è vero È un nuovo campionato Dovevo recuperare un po' Caricare la batteria E poi cominciamo un nuovo campionato C'è tre partite contro Modena Spero tre o due anche Però devo fare molto di più E andare in questo livello del playoff Grazie a tutti